Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Fabrizio Iacorossi, un personal trainer di 44 anni con una clientela prestigiosa, inclusa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è attualmente ricoverato in gravi condizioni presso il San Camillo di Roma a seguito di un incidente in bicicletta avvenuto ieri. L'incidente è avvenuto su Via Litoranea, all'incrocio con Via Arno, quando è stato investito da un Opel Corsa guidata da un uomo di 63 anni. Le autorità locali sono intervenute tempestivamente dopo l'incidente, e Iacorossi è stato trasportato in elicottero in codice rosso per ricevere cure urgenti. L'uomo, che è anche marito e padre di due bambini, ha subito un intervento facciale di 5 ore a causa delle lesioni riportate, compreso un polmone perforato. Le prossime 72 ore saranno cruciali per determinare la sua guarigione. La notizia ha suscitato anche l'attenzione di Daniele De Rossi. La palestra di Iacorossi a Roma ha ospitato diversi personaggi famosi nel corso del tempo, tra cui Totti e la stessa Meloni. La palestra ha una politica di accesso selettivo, basata sul passaparola e su invito, mantenendo un ambiente esclusivo e riservato.